Nella nostra scuola dell'infanzia accogliamo i bambini dai 3 ai 6 anni in sezioni eterogenee. Il nostro desiderio è quello di rendere unico e speciale ogni percorso di crescita e questo è reso possibile facendo sentire il bambino protagonista indiscusso di tutto ciò che fa. Attraverso una didattica esperienziale fondata sul fare i bambini costruiscono il loro sapere accompagnati dallo sguardo delle maestre che con amorevole cura introducono ogni bambino alla realtà che lo circonda. La cura che caratterizza ogni momento della vita scolastica nasce dalla consapevolezza che la didattica autentica ha come primo fondamento la relazione affettiva tra l'adulto e il bambino. Il rapporto tra adulto, bambino e bambini non solo della stessa classe ma anche di classi differenti è il fulcro da cui nasce il nostro fare scuola. La vita quotidiana degli allunni è organizzata in stimolante attività attraverso cui non solo apprendono un italiano ma anche l'inglese. Così i bambini imparano attraverso il gioco sia formale che informale. I bambini che intraprendono il percorso nella nostra scuola dell'infanzia hanno l'opportunità di fare esperienza con noi maestre che li accompagniamo valorizzando le attitudini e la personalità di ciascuno.